Questo animale proviene dal centro di recupero di Talamone dove già all'epoca aveva presentato un problema di presenza di plastica all'interno delle feci. È stata provata a liberare però in realtà l'animale fuciva la tica poi all'emergency e ad un secondo esame che quando poi è arrivata la cuore di Livorno ci siamo resi conto della presenza interiore di plastica all'interno dell'intestino che provocava una sorta di lieve parziale di stringimento e quindi la presenza di gas che le dà presumibilmente un problema di galleggiamento. L'Aquario di Livorno è centro di recupero e riabilitazione per la lunga degenza quindi di questi animali che quando sono in difficoltà vengono ospitati presso le nostre vasche riabilitati, curati e poi riportati in mare. Però lì potevate mettere la maglia del Livorno quando la mettevi in mare. Grazie a tutti! Grazie a tutti!